benvenuti a tutti in questo nuovo video vi mostrerò come usare gli sticker animati su whatsapp per prima cosa andate sul play store cercate whatsapp e andate a controllare di avere la versione 2.20 una volta che avete controllato ed effettivamente avete la versione 2.20 aprite whatsapp e andate nella tastiera sull'icona degli sticker e andate nell'ultima voce dopodichè andate ancora nell'ultima voce e aggiungiamo i nostri sticker animati scegliamo quelli che più ci piacciono ad esempio installiamo questi qua del cagnolino che tra l'altro sono gli stessi che potete trovare in facebook ecco qui una volta installati andiamo ad aprire la nostra chat a cercarceli e li inviamo vedete funzionano perfettamente ne mandiamo un paio giusto per verificare vanno perfettamente oltre al cagnolino ci sono veramente parecchi sticker questi ad esempio sono quelli con le persone che fanno cose questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi per i prossimi video